Eccoci qua cicloturiste e cicloturisti benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale Un sacco di pacchi e una busta molto grande e molto interessante come un prodotto che io non ho mai visto In realtà ci sono alcuni prodotti che già ho utilizzato, alcune tipologie di prodotti tra questi che ho già utilizzato Ma c'è anche qualcosa di curioso che personalmente non vedo l'ora di aprire Perché qua continuano ad arrivare pacchi, continuano ad arrivare cose, spedizioni anche piccoline Ma super utili e a proposito di cose super utili partiamo subito con questa Questa che mi arriva da Haysport, un'azienda che è nata qualche anno fa concentrandosi sul mondo sci e sul mondo outdoor in generale Ma da qualche anno hanno lanciato anche la loro linea sport per il ciclismo Allora allora c'è un sacco di cose ma prima partiamo con gli adesivi ragazzi Gli adesivi qualora mi doveste spedire qualcosa, mi raccomando gli adesivi, questi molto belli Sempre apprezzati ma adesso andiamo a vedere un po' di prodotti veri e facci che sono veramente tanti Partiamo da questa maglietta molto leggera di Haysport, anche microforata quindi perfetta per l'estate per permettere di sudare di meno Questa è una cosa che se siete persone come me che hanno sempre problemi di sudorazione vi straconsiglio Mi sembra anche resistente come materiale leggero però carina anche come maglietta Bello il design ma andiamo avanti Oh oh allora questi magari non adesso che fa caldo Però 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 carini Pantaloni da offroad quindi non per forza gravel magari anche da enduro Belle 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 le taschine con le cernierine Anche qua abbiamo la zip chiusura con il laccio Quindi niente asole, niente elastico Sembrano essere molto comodi, molto larghi questi per non andare ad impedire i movimenti Quando si pedala e si fa discesa magari o anche offroad E qua ho questi li avevo subito addocchiati quando ho aperto il pacco Perché sono dei pantrucini corti pensati sia per il mondo enduro ma anche per il mondo gravel Perché? Partiamo dai dettagli che sono tanti e mi piacciono Taschine laterali Tasca qua con la cerniera Grande e giusto ci sta anche un telefono, i documenti così da averli sempre qua portata Insert qua riflettente In generale la costruzione mi piace un sacco Le asole per far passare la cintura E in generale molto molto respiranti Anche le tasche, le tasche sono di rete leggera E la cosa che mi è piaciuta toccando questi prodotti Sono già al terzo, è la totale leggerezza Sono estremamente leggeri Quindi sicuramente e-sport da valutare come marchio Dovrebbe esserci anche un codice sconto che vi lascio qua sotto in descrizione È un'azienda italiana Se volete sostenete sempre le aziende italiane E invece questo è un normalissimo gilet anti-vento Ce ne sono tratto di vari colori anche sul sito Con le taschine laterali Quindi questo proprio le sue taschine laterali Inserti sempre riflettenti Costruzione con la cerniera Semplice e efficace Qua sotto ha questa band elastica Ormai stanno proponendo un po' tutti i brand Per migliorarne l'aderenza e non farlo muovere Interessante e-sport A loro vi piace fare off-road Quindi andate a darci un'occhiata E appunto c'è anche il codice sconto Tra l'altro vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram È gratuito, lo trovate qua sotto in descrizione Trovate tantissime offerte relative al mondo bici Sia da e-commerce come Amazon Ma anche da Deca Insomma dateci un'occhiata Siamo più di 1500 Wow, tanti tanti Grazie a tutti Dagli che arriviamo a 2000 Ma 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 Veniamo adesso a questo sacchettone Eh sì perché è questa agenzia Che tratta il marchio ISPAC Il marchio ISPAC Che conosco in tanti di voi Perché ci andavamo tutti A scuola Quelli della mia generazione Con lo zaino ISPAC Tranne io che ero sfigato E avevo quello di mio cugino Che comunque era un invicta Quindi molto figo Questa azienda Probit Agency Che mi ha mandato questo pacco Non è un pacco in realtà Me l'ha fatta arrivare con un corriere in bicicletta E quindi questa è una cosa molto carina E sì ragazzi Perché a Milano Diciamoci la verità Cioè Milano è piccola È piatta Cioè io non capisco perché Tanti corrieri Continuano a fare le consegne Con i camion Che ingombrano Non sanno dove parcheggiare Inquilano a far rumore Casino Confusione e robe Invece con delle cargo bike Sono tutti più veloci Se tutti Sono a cargo bike Vabbè Insomma fatemi stare nel mio mondo Fatato forse Però insomma All'estero fanno così Non so perché noi in Italia Siamo speciali E non lo vogliamo fare Comunque Fatto anche lui In materiale riciclato Inserti Riflettenti Una grande 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 Tasca Super capiente Una monotasca Con qualche taschina interna Ma nient'altro La vera chicca però È che Qua dietro abbiamo Questi ganci Che servono per Agganciarlo Al portapacchi Oltre questo strap Invece serve per Agganciarlo Sulla parte bassa Al portapacchi Ma visto che Gli spacca E visto che è uno zaino Cerniera Qua Qua viene la magia Perché Oh yes Qua in basso C'è un altro velcro Dove potete ricorre Direttamente La parte posteriore La richiudete E questo diventa Un vero e proprio Zaino Quindi Beh dai Figo Sicuramente molto creativo Stile Ispac Con la monotasca E qua davanti La tasca più piccola Veramente molto bello Anche la costruzione Al tatto È arancione Quindi già A me piace Di default Però il fatto Che sia anche fatto Da materiali Riciclati E con inserti Riflettenti Qualità Ispac E tanta tanta roba Ve lo lascio qua sotto In descrizione Ma andiamo avanti Con i prossimi Pacchi Questo mi arriva Da un produttore Su Amazon Ecco perché C'è una cosa Che magari non sapete È che Tanti 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 produttori Contattano Youtuber Influencer Vari Per spingere I loro prodotti Questo in particolare È un prodotto Che Io non conosco Cioè L'ho ancora provato Però la tipologia Di prodotto Mi piace tanto E se posso Scelgo Questa tipologia Di cuffie Per quando vado In bicicletta Quindi no Non le Airpods A parte che non ho Un Apple Ma Vi consiglio Questa tipologia Del case Molto molto carino Ben fatto Gommatino C'è anche questo Questa bandina Elastica Anche al tatto È carino Dai mi piace Queste sono le cuffie Che vi consiglio Ovvero quelle pensate Con l'archetto Perché praticamente Stando in questa posizione Permettono Di stare belle Fisse Fermi Immobili Non fanno Movimenti strani E quindi Anche se Gitate Muovete la testa Insomma Mentre vedrate Può succedere di tutto Questa è la tipologia Di cuffie Che vi consiglio Ovvio In commercio Ce ne sono Un miliardo E mezzo Di modelli Però queste Wing 2 Mi piacciono Sicuramente Per questo Dettaglino Ma anche la costruzione È diversa È diversa Dalle altre Cuffie Che ho provato Io solitamente Prendo sempre Il primo prezzo Amazon Perché Alla fine Più o meno Si equivalgono tutte Anche queste Sicuramente Hanno una costruzione Una pil migliore Ma dentro Ragazzi Sono fatte Tutte Allo stesso Cioè le cuffie Adesso si assomigliano Davvero Tutte quante Ma a proposito Di cuffie Rimaniamo sempre Su altre cuffie Perché Queste Ecco Queste Specialmente Se avete paura Di pedalare Nel traffico E ci sta Io vi capisco Perfettamente Perché Vivendo in una grande Città come Milano Il traffico Qua è All'ordine del giorno Poi Bisogna sempre Stare attenti Su la strada Quindi Se usate le cuffie Tra l'altro È legale Indossare una cuffia Sola Mentre Si pedala Questa tipologia Di cuffie Può fare Al caso vostro Ne avevo già parlato Sul canale Con un altro video E sono le cuffie A conduzione ossea Una tecnologia Abbastanza nuova Ma che In realtà Sta a poco a poco Abbassando il suo prezzo Perché una volta Avevano dei prezzi Assurdi Ma con la tecnologia A conduzione ossea Praticamente Vi lascia l'auricolare Scoperto Quindi Potete sentire I suoni Che vi circondano Il traffico Le persone I cani Campanelli Di altre biciclette Spiecie se siete Dei pedoni O persone che corrono Sui ciclabili Non fatelo Per favore In ogni caso La cosa bella Di queste cuffie È sicuramente La leggerezza Sono molto molto leggere Sono gommatine Sono impermeabili Molto bene Che ha i pulsantini Fisici Eccoli qua Per spostarsi Nei vari menu Belle belle Costruite bene Ovviamente Anche le altre Non ho specificato Carica tramite Cavo Type-C Che bello Che i micro USB Stanno scomparendo Niente di personale Cavi micro USB Però Il futuro È Type-C Accettatelo Molto molto carine Come cuffie Ma andiamo avanti E proseguiamo Con un marco In realtà Avete già visto Spesso qua Sul canale Sto parlando Di Sportlab Che Io lo dico Ad ogni video Lo dico ad ogni video Perché È giusto dirvelo Raga Io In queste crebine Non ci credevo Cioè per me Erano veramente Ma che è Sta roba Cos'è Cos'è Scienza O Fantascienza Invece gli amici Sportlab Stanno Anno dopo anno Tra l'altro Mettendo in commercio Piccoli prodotti Piccoli gaggettini Molto carini Tipo questo Velo in microfibra Super compatto Super estivo Tanta roba E poi sono anche usciti Con le Dosi Dosate Queste dovrebbero anche Essere riciclabili Quindi Amiche Attenti all'ambiente Profumo Profumo c'è A me piace tantissimo La cool down cream È quella che vi consiglio In assoluto Dopo lo sforzo Io ho superati I 25 anni Praticamente ho iniziato A sentire fatica Dopo le pedalate Adesso ne ho Quasi 29 Mi sento un rottame Dopo mia uscita Quindi devo fare tanto stretching E questa crema Sicuramente mi aiuta Bella anche la power lotion Da far la doccia Oltre ai benefici Di idratazione Ha anche Un ottimo effetto Post pedalata Quindi Vi consiglio Tutti i prodotti In generale di Sportlab Sono un'azienda Che fa i propri prodotti In Italia Un'azienda italiana Anzi di Milano Quindi Sosteniamo i ragazzi Di Milano E c'è anche Un codice sconto Lo trovate in descrizione E adesso Visto che abbiamo parlato D'estate Parliamo di Cose invernali Eh sì Perché capita A volte di ricevere Dei prodotti Che In realtà Uno si aspetta Magari di ricevere Per testare Durante l'inverno Ma Te li mandano in estate Per qualche ragione Grip Grab Grip Grab Grip Grab è un'azienda Un e-commerce Che magari alcuni di voi Già conoscono E fa dei prodotti belli Interessanti Accattivanti Guardate che bella Che è questa Un base layer In lana merino Con la sua Cerniera Molto molto bello Bello anche al tatto Mi piace Brandizzato Grip Grab Questo sicuramente Lo userò Inverno Non adesso Che ci sono letteralmente Un miliardo e mezzo di gradi Tra l'altro Spero non si senta Al condizionatore Ma io in questa casa Se no Al condizionatore Crepo Quindi io Solo a vederli Questi li mettono Caldi Questi dovrebbero essere Guanti Tipo per Isolazione termica massima Dovrebbero proteggere Fino a meno 5 gradi Quindi Io adesso li indosso Lo faccio per voi Anche con qua Le tre dita Vicine vicine Per proteggere meglio Perché alla fine Sono le dita Le estremità Che ci fanno percepire Il più il freddo Quindi tra l'altro Questi dentro Hanno ognuna Il proprio dito Ma sono più vicine Quindi Non ci passa L'aria Non ci passa Il freddo Quindi In teoria Tengono più caldo Belli Carine Questo dovrebbe essere Riflettente Con il touch Però Si Il touch Sui guanti A me fa piacere Che lo dicano L'azienda Che ci sono i touch Però in realtà Non funzionano male Diciamolo Oppure se Tipo li lavate Dopo che li avete lavate Non funziona più Non so in realtà Che cosa ci mettono Però spero di non essere L'unico Ad aver avuto Questa esperienza Di cattivo funzionamento Con il touch Questo non me lo metto Fa troppo caldo Perché devo farlo Perché devo farlo Oddio È estate Perché Molto carino Protegge le orecchie C'è anche il suo Berrettino La sua viserina Con l'inserto E il frangente Però Grazie Grazie Perché sono dei bei prodotti E alla fine Costano poco Tanto vi arrivano Velocissimi A casa Hanno un magazzino In Europa Quindi Tanta roba Ma Veniamo ad altri prodotti Un po' più Meno ciclistici Magari Però ho scoperto Online Un nuovo e-commerce Che magari Alcuni di voi Già conoscono Perché hanno una pubblicità Proprio martellante Che è Temu Che è tipo Wish Alla fine Mi ricorda di Wish? Un e-commerce Che vende un sacco Di prodotti Più o meno interessanti Tipo questo Questo serve per tenere Le eliche del drone Ed è una cosa che Tipo allo 0,5% Di quelli che stanno guardando Questo video Servirà Belle ferme Fisse Quindi le eliche Non vanno in giro Non si rovinano Non si Rischiano di spezzarsi Rovinarsi Un po' Inclinarsi Magari graffiarsi È utile E Costava tipo 99 centesimi Perché è un pezzo Di silicone Un pezzo di silicone E in particolare Su questi e-commerce Che In realtà Spuntano un po' Come fughi Trovate veramente di tutto Ma io che cosa Vi consiglio di comprare Allora su questi e-commerce Non comprate mai La roba elettronica Comprate invece I prodotti Che sono fattici Di plastica Alla fine Ossia che voi Li compriate Da un altro e-commerce Alla fine Sempre plastica E le aziende che le fanno Sono sempre quelle in Cina Ah no Ok Ho ordinato anche Una roba elettronica Ma ero molto curioso Di capire se funzionasse Oh Ho preso tante cose Perché c'erano delle offerte Ok Ho preso in realtà Anch'io una roba elettronica E sono molto curioso Di capire se funzionerà Però è una roba Molto semplice Ovvero una bilancia Che Si accenderà Lo bisogna levare Qua Mettere a contatto Oh Eccola Si è acceso Ok Si funziona Quindi io Premo E rilevo i chili Questo mi può essere utile Magari in alcuni video Visto che tanti di voi Sono fanatici del peso E un po' Li capisco Un po' No Sono curioso di iniziare A pesare un po' Tutta l'attrezzatura che uso Per vedere Se magari mi sto portando Le robe eccessivamente pesanti Oppure meno Vabbè insomma Avete capito il discorso E poi su questi e-commerce Si trovano cose Tipo Questa Dovrebbe essere un multi-tour Multi-utensile Vabbè insomma Cose curiose Che al fine c'è tipo quello Un pezzo di ferro Pensate che se lo comprate su Amazon Se lo comprate su un'altra e-commerce Cambia qualcosa Assolutamente no O anche questo Questo Non lo apro Perché Vorrei tenerlo qua dentro Questo è un sottotenda Questo è un sottotenda Che serve A metterlo Sotto la tenda Perché si chiama così Oddio il caldo mi sta Sciogliendo anche il cervello In ogni caso È un sottotenda Dalle dimensioni Di una tenda di due posti Ma questo è utile Anche magari Se fate bivac Quindi Se non vi serve la tenda Dormite semplicemente Con il materassino E il sacco a pelo Per non appoggiare Direttamente il materassino Per terra Magari siete in un bosco Magari c'è Un pezzo di legno Che vi Buca Direttamente il materassino O anche un pezzo Un sasso Che magari non lo vedete Lì Sono cose che Possono succedere Questa cosa Che sembra molto sexy In realtà È banalmente La mascherina Per dormire Visto che Oh Adesso faccio tutto il video Non lo so Ultimamente ho avuto Un po' di problemi A dormire in tenda Mi sento Un po' scomodo Ecco Ho cercato di ovviare Comprando un cuscino Della Decathlon Che adesso Mi metto a schermo Anzi Vado a prenderlo Così ve lo mostro Ed eccolo qua Questo è Il cuscino Che ho trovato Della Decathlon Che è molto grande Cioè è grande Quasi il triplo Un cuscino gonfiabile Però poi in realtà Aperto Così Bello morbido Mi piace assai In memory Quindi ok Sì è leggermente comprimibile Però non più di così Quindi sì Sicuramente mi occuperà più spazio Per trasportarlo Però Boh Mi piace E quindi Super approvato Già provato Durante La Hug Ah sì Questo in realtà Va ad aggiungersi Perché è molto morbido Molto compatto Non occupa Spazio E quindi Mi aiuta Vedere più buio E io dormo Col buio Mi piace dormire col buio Quindi Per questa rettita Forse dovrei aggiungere Anche i tappi Per le orecchie Perché Cioè Io non so voi Ma mi sveglio sempre Quando ci sono di unce linea Alle 5 e mezza Ti cinguettano Perché Fanno un casino assurdo Scrivitemi qua sotto Nei commenti Se anche a voi Succede quando fate Free camping E a proposito di free camping Questa ovviamente Non è una cosa da portarsi Mentre si fa un viaggio in bicicletta Magari un lungo viaggio In bici sì Però è una doccia Che si appende così Si riempie di acqua Qua non so C'è anche una caschina Che boh Ok E dopodiché A questo beccuccio qua sotto Si aggancia Questa Che è praticamente Una doccia Quindi Ok Non gira Ah ok Adesso gira E È un doccino Quindi è Una doccia Sembra abbastanza compatta È un po' Non pesante Però Sì 150-200 grammi in più Magari non me li porterei Non me ne viaggio in bicicletta Ma magari può essere interessante Per qualcuno Che vuole fare un lungo viaggio Ecco Magari un lungo viaggio Me la porterei Perché comunque Qualche comodità in più Se non pesa tanto E ho poco spazio Perché no Alla fine E siamo arrivati alla fine La chicca finale L'ho tenuta per ultima Questa è molto curiosa Questa è Lumos Magari Suggerici qualcosa A nome Oh yes Eccolo qua Sarò molto curioso Di testarlo Di provarlo Perché è un casco Si vede che è un casco Però se togliamo Il tonnellato di plastica Che non bisogna mettere È un casco Molto bello Molto tranquillo Ma la cosa bella È che ci potete mettere Delle luci Cioè potete proprio Agganciarci delle luci Qua sulla parte posteriore E quindi queste luci Che trovate in confezione Vi servono per aumentare La vostra luminosità Allora no Questa non è la luce Ma è Ah sì Ok No Questo è l'adattatore Questa dovrebbe essere Sì La luce Vera e propria Oh ok Beh Penso sia abbastanza forte Che ne dite Ah Ok 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 Funziona quindi Con la carica A induzione Quindi questa è la basetta Di ricarica Qua c'è il suo Ingresso della Type-C Voi la posizionate Qua dentro Voi la posizionate Qua dentro E lei si ricarica Per induzione Molto molto bella E quindi lei per forza Visto che non ha porte È anche impermeabile Molto molto bella Semplice ma efficace Carino Il casco di Lumos Leggero Come ce ne sono tanti Per il commercio Ma con la possibilità Di utilizzare Gli elastici Da agganciare qua dietro Che trovate in confezione È sicuramente Una cosa innovativa Quindi voi Mettete la luce qua E niente Siete pronti a pedalare Questo Sono curioso Di testarlo Vedremo se Nei prossimi mesi Me lo vedrete indossare Sicuramente Oh mi piace Di avere anche dei prodotti Così un po' più Tecnologici O magari di nicchia Perché chiaramente È un casco di nicchia Non costa poco Come un casco normale Però molto molto Interessante Quindi non vedo l'ora Di provare Questo E tutti gli altri prodotti Che avete visto in questo video E la cosa migliore Da fare adesso È uscire E andare a pedalare Ma anche seguirmi Sui miei bellissimi social Che trovate qua sotto In descrizione E in descrizione Trovate anche questa Ma tante altre fantastiche Magliette Che vendo su Bike Creative L'e-commerce Pensato per La creatività In bicicletta Quindi trovate Questi design Ma tanti altri Che state vedendo Anche adesso a schermo Un ringraziamento Come al saluto A tutti i fantastici Patreon Che sostenono il canale Qua i loro nomi E link in descrizione Se anche voi Volete entrare a far parte Del gruppo Dove discutiamo Di tantissime cose A tema viaggio Quindi cerchiamo dei consigli Itinerari I percorsi Cosa fare Attrezzatura Insomma Dateci un'occhiata Grazie a tutti i ragazzi Che mi sostengono E grazie a tutti quelli Che lo faranno Questo era veramente tutto Io adesso rimetto A tuono l'aria condizionata Perché si crepa Qua a Milano In questi giorni E niente Non penso che uscirò in bici Visto che adesso Sono alle 3 di poveriggio E Raga Ma come si fa a trovare la voglia Cioè Io non so Deve uscire alle 5 del mattino Per Mi sto sciogliendo Va bene Buona abitata a tutti Ragazzi Anche con questo caldo E ci vediamo sempre qua Al prossimo video Ciao